Trasferta molto difficile contro una squadra che troveremo agguerrita, che ha bisogno di fare punti per la salvezza e quindi tra le mure amiche. Una partita molto difficile perché questa squadra ha mostrato già in settimana di essere viva, di essere capace di ottenere risultati importanti anche su campi difficili come quello di Altamura. E quindi dovremo farci trovare pronti, preparati e avere la stessa determinazione e la stessa voglia di fare il risultato che avranno sicuramente loro. Quella della Coppa Italia è un risultato acquisito, un risultato che va messo da parte e ora tutte le energie e tutte le attenzioni devono essere orientate nella partita di domani, che nasconde tantissimi insidie come ho già detto e cercare di fare una grandissima prestazione perché solo attraverso una grandissima prestazione domani possiamo tornare a casa con un risultato importante. Grazie 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 Grazie